Android buongiorno, prova video in full HD a 60fps con il Sony Xperia X-Compact eccoci, vediamo rapidamente cambio di messa a fuoco, abbastanza veloce anche qui i colori sono ben riprodotti di nuovo cambio di messa a fuoco, sempre molto rapido proviamo una macro da Valerio di Tecnandroid è tutto, un saluto a tutti quanti e alla prossima recensione, ciao ciao